Ciao a tutti, benvenuti all'Istruments Attack, da Andrea De Riciclato e dal signor Mochel. Buongiorno, buona questa mano. Allora, lo strumento del giorno sarà costruito con una tastiera. Come vedete, questa tastiera che non funziona più la trasformeremo in uno strumento. Ciò che dovrete fare è svitare tutte le viti. Quindi velocemente cercherò appunto di togliere molte delle viti che sono rimaste, perché ce ne sono tante. Signor Mochel, tu ce l'hai la tastiera? No. Non ce l'hai? No. Allora, tolte appunto, come vedete, le viti dentro e ci saranno tante cose. Le togliete tutte, tutte le togliete e rimontate la tastiera con i tasti liberi. Quando le andrete a rimontare occorreranno giusto quattro viti in tutto, ok? Le rimettete velocemente. Una. Ti piace Mochel? La musica? Sì, ma... Le rimettete e lo strumento è pronto. Oppure potete fare un sonoro come un guiro. Bene. Poi, se all'interno avete dei circuiti stampati sulla lamina, potete utilizzarli per fare il tempurale. Quindi, mi raccomando, da Andrea e signor Mochel, un bel saluto e non buttate via mai niente. E anzi... Suonacelo! Ciao! Ciao! Ciao!